Buara 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 Trizio per voi in giochi di mezzo neurone Eh sì, alla fine abbiamo preso un ascensore e siamo arrivati qui Non era tanto lungo il pezzo dopo ma diciamo che ci è voluto abbastanza per farlo Ci ho messo altri tipo tre o quattro tentativi e niente Comunque adesso siamo qui, ho appena fatto fuori un bastardo Lì dentro non c'è niente, ho già controllato, comunque ho fatto fuori sto coglione qui E niente, adesso non so dove andrei Quindi è tutto nuovo, perciò vediamo cosa ci riserva al futuro Ok Cazzo di Buddha Buddha, è già lì È già lì È già lì, è già lì, è già lì Aspetta, aspetta Vino Vai là Spero che abbia visto il razzo Non so dove si è Non so dove si è Non so lì Non so lì, non so lì il bastardo Ma io dovete mandarlo in fondo Ecco, brava, 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 vai là, vai là Il bastardo è salito Il bastardo è salito Ehm Tanto sai cosa mi dice? Ho cambiato il codice in 1-9-8-4 Ok 1-9-8-4 Dove lo devo mettere? Ok No 1-9-8-4 Ok Ok Prendi qualche minuto Mannaggia giurta Mannaggia giurta Mannaggia giurta Mannaggia giurta Ma vista No Cazzo Ragazzi Dai Vai là 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 Dai Vai là Stardo Vai là Non ci va eh Oh sì Invece ci va Attenzione 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 Adesso abbiamo 50 di lancio fiamme Ma lui è bastardo Emo Emo Dai Vai E questo qua? Ah, eh sì, vedi Oh yes Oh yes E adesso si sposta Giustamente Giustamente, adesso si sposta Ma da No, vedi a matti Ed è una stronzata, c'è proprio davanti agli occhi Vabbè Comunque Andiamo avanti, proseguiamo Non si vede niente Come al solito Qui cosa c'è? Cosa c'è qui? Un po' di lanciafiamme, subito Questo è stato Sventrato Distrutto E vabbè Andiamo avanti Qui è tutto chiuso La Lì c'è una roba del lanciafiamme Speriamo di riuscirci ad andare Ma Dubito Ok, qua non ci passo Questi corridoi Tutti tetri Tutti tetris Poi ci sono delle scarpe Qui Ha cercato di forzare Ma non ci è riuscito Dove dobbiamo andare? Di là, di qua? Ah, eccola Mi sto rifacendo di lanciafiamme Siamo già cento, signori Ciò vuol dire che adesso l'alien Sarà abbastanza Insistente Ok Probabilmente devo andare qui dentro Anche perché non riesco a passare da nessun'altra parte E let's go Evidentemente devo Generatore in funzione Ho capito Allora che devo fare? Cosa devo fare? Tessera d'accesso richiesta Eh 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 La fai facile Ah, ce l'hai Cacchio Merda Lo sapevo Lo sapevo che c'era qualche Qualche bastardo in agguato Lo sapevo Ok Abbiamo la tessera E ora possiamo accedere Giusto? Sì Ok, yes Yes Eh Ah, certo Dove una storia alternativa Arriva È stata alternativa Dove lo trovo? Cazzo Arriva 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 Bastardo Brucia Brucia Bastardo Brucia 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 Cagliolo Entra dentro Entra dentro Per l'amor di Dio Vabbè Eccolo là Eccolo là Star Io salvo, eh Io salvo Perché Non mi fido Adesso scende giù Me lo butta nel culo Eccolo lì Star Bastardo 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 Madonna 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 Se mi son cagato Adesso 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 cosa devo fare? Eh 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 Portello bloccato Capito? Ah, ok Così Che è successo? Eh Ciao Vieni via il generatore Due sorelle Due sorelle Adesso Adesso si sente Dicimila alien che urlano Generatore Ovviamente devo andare dall'altra parte Perché il generatore Non potevano Non potevano Farlo lì vicino No? Dovevano per forza farlo lontano Sono sette chilometri Adesso Mi prende Adesso lui è lì Lo butta nel culo E io muoio E io muoio Non ho neanche più razzi Cazzo 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 Ma come si fa? Come si fa? Come si fa? Dimmi te come si fa? Semplice Si usano le casse acustiche Ok Salviamo Ok E niente sono morti E niente Ma con 6 di lanciafiamme Ma con 6 di lanciafiamme cosa si- cosa si può fare? Niente Vabbè meno vale che avevo salvato Dai Dai Ehi, niente, sono morto, sono morto. Eh sì, forse ripercorriamo i passi dello scorso video. Eh, non vorrei dire, ma se andiamo avanti così... Infatti mi dimentico che c'è sto condotto. Se mi ricordassi... Ma che cazzo, ma è lì? Ma stiamo scherzando? No, ma ha già visto... Ma stai... Ma stiamo scherzando? Ma che cazzo l'ha visto che era lì? Ok. Ok. Cazzo qua... No! 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 Ma non ci credo... Ma non ci credo, anche così... Sì, ma... Ma perché? Ma che è? 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 Ce ne andiamo, ce ne andiamo e vaffanculo no, qualche figlia è impossibile, c'è, ooohh Ok, cerchi di far traccare la torrens Eeeh, si Let's go Ahia, ma non ci passa, non ci passa, ok adesso ci passa Ok, c'è da merda qua, ahia, madonna cos'è, trema tutto Si, evidentemente trema tutto Adesso non dovrebbe più esserci l'anien, quindi è la madonna, quanto trema Aia, ancora, cos'è, scosso in magnitudo 18.000 Aia, allora cos'è Ok, usiamo la torcia, aiule Ok Ok Oh yes Oh yes Attenzione, un altro ascensore Qui si va a 10 ascensori Ehi, scappa da Sebastopol, è la madonna Davvero 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 Vai a scappare da Sebastopol Che bello Ok, ragazzi Visto che io sono infame E visto che penso proprio che stiamo per concludere il gioco Direi che possiamo fermarci qui per il semplice motivo che vorrei concluderlo Con un episodio proprio dedicato alla conclusione E penso proprio che sia il prossimo in teoria Però non Non ne sono sicuro al 100% Però comunque sia, noi teniamocelo buono Perciò ragazzi, io oggi interromperai qui Quindi noi ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi Ciao Ciao